Siamo in Cittoslo internazionale in Orvieto, abbiamo una delegazione di Maria, una piccola città nel nord di Danmark, molto interessata per capire più di Cittoslo. Hai già visto abbastanza? Qual è la tua esperienza? Credo che abbiamo già studiato un po' sul internazionale, ma ora ho capito che è molto più di un brand per il turismo e per la popolazione, ma è come un modo di pensare, di sviluppare tutta l'area, quindi è molto interessante. In Danmark abbiamo Sven Borg, perché siete interessati a Cittoslo? Perché crediamo che la qualità che è già in Maria, l'autantica città, e le cose che hai fatto in Cittoslo, ci sono molto bene, la città di Maria. E l'attenzione, l'attractività di Cittoslo, anche per il turismo, è molto importante. Qual è la sua perspectiva in tua piccola città in Danmark? Oh, per i turisti o per i locali? Per i turisti, è perché... Siamo tutti, sì. È una qualità, perché hai la vita di ogni giorno, e persone piacciono tutto in loro spiega, e Cittoslo ha tutte le qualità che ha contenuto il buon vita. e questo è quello che cercano di aumentare in Maya sia per i turisti che venivano a rilassare ma anche per le persone che vivono in l'area che rendono un buon place per vivere Grazie molto e spero di visitarti in vostra città e magari, non lo so, dipende da vostra comunità se vuoi diventare Città Slow you are welcome, of course Thank you